Tutta la vita è fatta a cicli, no? E poi anche gli allenatori di calcio, dopo che hanno vinto uno scudetto, preferiscono uscire in bellezza. Dopo quattro anni da amministratore unico Franco Scortecci si è dimesso e ha deciso di farlo nella giorno in cui ha ricevuto le motivazioni della sua assoluzione nel processo Coingas. L'accusa era quella di favoreggiamento per le consulenze d'oro, è stato ritenuto innocente perché non avrebbe, secondo il giudice, avuto alcuna consapevolezza del reato commesso. È venuto palesemente fuori che il nostro operato era finalizzato comunque a rimettere a porto i conti, sicuramente in una situazione molto delicata, con cose che non tornavano neanche a noi, però l'obiettivo nostro era quello di chiudere comunque il bilancio perché c'era una responsabilità di non bloccare il territorio nei 27 comuni. Il mio operato era finalizzato a rimettere a porto una società che era disorganizzata, non c'era niente, oggi ho attivato tutte le procedure ANAC, anche nell'incertezza se fossimo meno obbligati a ciò, però mi sembrava giusto che una società come questa attivasse le procedure in trasparenza, quindi ho fatto l'amministratore come ho sempre fatto in vita mia. Mi sono divertito e in più ora la mia soddisfazione è che da giorni parte qui nel campo di addestramento di Coingas e di Centria, la sede nazionale di ricerca e sperimentazione per conto di Enea con l'Università sull'idrogeno e le energie rinnovabili. A poco meno di 90 giorni dalla sentenza del processo Coingas, che vedeva la sbarra a nomi eccellenti della politica retina, sono state così depositate le motivazioni, 158 pagine dove vengono spiegate le ragioni delle quattro condanne delle sette assoluzioni. Dunque, il sindaco di Arezzo Ghinelli, condannato a tre mesi per favoreggiamento, sarebbe stato a conoscenza dell'accordo tra Bardelli e Amendola, secondo il Tribunale, un patto corruttivo. Per lo stesso fatto erano stati condannati anche il consigliere comunale e l'ex presidente di Arezzo Multiservizi. Era stato condannato tre anni per peculato invece l'avvocato fiorentino Pierettore Orivetti Razon. Secondo il giudice, parte delle consulenze da lui svolte non sarebbero state, infatti legate solamente alla partecipata. Sulla nomina di Macri, infine alla presidenza di Estra, assolto con formula piena, per il giudice non ci sarebbe stato dolo un elemento fondante per l'abuso d'ufficio.